Ti ricordo il pedale sul freno Non mi metta mai da me Sposterei il phone su voi Perché Mi spiace l'acceleratore Vai Si sbaglia il pedale Ah eccola Grazie 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 Se la sediamo noi Mattia Ti si tolgo lieto ancora Mattia Se la sediamo sempre Scansiamo Ok Ah quindi che sediamo Sì Sì Grazie Sì Grazie Oh 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 O Presidente, sorpresa al termine di questo evento, auto elettrica car sharing delle ferrovie Nord Milano Sì, abbiamo deciso insieme a Regione Lombardia di incentivare l'utilizzo delle auto elettriche il gruppo FNM ha una propria società di car sharing e nei prossimi anni anche in risposta al problema dello smog favoriremo il car sharing totalmente elettrico come risposta ad emissioni zero Quindi questa è un'opportunità per la città, oltre a quella che avete già posto in essere con la Milano Genova, per rendere più respirabile l'aria e per favorire di conseguenza una migliore vivibilità delle nostre città Non c'è una sola soluzione, il treno è un mezzo che muove da punto a punto, ma la mobilità integrata la si gioca nell'integrazione gomma innovativa, quindi con modalità elettriche di mobilità insieme al treno in modo che uno possa raggiungere la propria abitazione sempre in emissioni zero. Un modo di fare impresa intelligente e ecocompatibile? Beh, è una delle mission di FNM Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!